Simo, mi dispiace che tu sia in questo stato per colpa mia. Non volevo. Cosa facciamo adesso? Non mi rispondi più. Come faccio io poi? Non capisco più niente. Non so cosa dire io. Devi aiutarmi, devi aiutarmi, devi tornare, devi tornare da noi. Io ho contattato i poteri oscuri di Nagash in persona, ho fatto un patto con Nagash per riuscire a riportarti in vita Simo, a riportarti tra noi. Questa mutazione del warp deve finire subito. I sette libri di Nagash, sono nove però. Sì, ma adesso sono i libri di Nagash. Cercherò di riportarti tra noi. Cominciamo il rituale. Simo! Simo, sei di un'altra mei! Non so come ho fatto. Tu mi hai lanciato di un'altra volta. No? Comunque non c'è tempo, porto pessime notizie. Aiutaci Colombin Kenobi. No, serò di un'altra mei! Miserabili mortali. È Mortrex, dalla frange orientale che imparano. Vi tengo d'occhio da tempo ormai. La vostra ora è aggiunta. Fin troppo lungo avete parlato di miei ristori, hai inutilità varie. Fin troppo lungo avete accusato della mia pazienza e mio buonismo. è l'ora di cambiare. Non più frivolezze, non più idiozie. Sono venuto per conquistare questo canale e trasformarlo in qualcosa di utile. La guida galattica per giocatori sta per iniziale. Stai sull'anato. Non ce la faccio.